Operazione Lampo dei Carabinieri di Paternò che hanno bloccato quattro rapinatori di notte in un benzinaio sulla strada statale 121. I quattro individui di notte intorno alle 2.30 si erano approssimati in zona del distributore di carburanti Pappalardo e di quattro travisati erano entrati nei locali dell'attività commerciale. Sull'opposto sono giunti i carabinieri della compagnia di Paternò, della tenenza di Mister Bianco e di Regalna che hanno bloccato i malfattori in azione. L'attività dei militari è stata fulminia e i rapinatori non hanno avuto il tempo di poter fuggire. Gli arrestati, come disposto dall'autorità giudiziaria, sono stati posti ai domiciliari, eccetto il minore che è stato accompagnato per esso il centro di prima accoglienza di via Franchetti a Catania.